Siamo qua a costruire la moneta, una grande vittoria. Sì, bellissima. Abbiamo lottato fino alla fine e andiamo a farci questa finale, siamo contentissime. Cos'è che ha funzionato meglio di tutto oggi? Ma ha funzionato sì e no tutto. Secondo me ci abbiamo messo tanto cuore oggi perché loro venivano per portarci via questa finale, ma noi lo volevamo di più. Quindi è stata una lotta di volontà più chiaro. Una lotta di volontà perché dopo un tour de force così è per forza volontà, tanto cuore, tanta voglia di fare questa finale e provarla a vincerla anche. E guardando le prossime partite avete una fissa di impegni e bella lunga. Allora lunedì adesso subito testa i playoff, abbiamo un'altra occasione per andare ai quarti e ci siamo vicine. E poi ci andiamo a giocare questa finale che è un sogno, per me è un sogno. Ciao, ciao. Ciao.